Nuova manifestazione oggi di Coldiretti Abruzzo all'Aquila dinanzi all'emiciclo, dove si sono ritrovati imprenditori agricoli, sindaci, l'assessore regionale Emanuele Imprudente e vertici di Coldiretti. La denuncia di Coldiretti è chiara e sempre più pressante. I danni da fauna selvatica, in particolar modo da cinghiali, sono sempre più numerosi e in Abruzzo questi superano i 100.000 esemplari, bandiere, striscioni e cappellini gialli, per chiedere soluzioni immediate alla regione Abruzzo. L'ultima manifestazione di questo tipo ci fu lo scorso 8 luglio. Poco è cambiato. La situazione ormai è al collasso per imprese e cittadini e non è di poco conto neanche il problema sanitario, perché c'è l'ultima emergenza relativa alla peste suina africana, che provoca allarme e preoccupazione. I branchi di animali selvatici e non solo cinghiali ormai si spingono sempre più vicine ad abitazioni e scuole, ha sottolineato la Coldiretti. Distruggono raccolti, aggrediscono animali, assediano stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti e razzolano tra rifiuti, provocando appunto un problema pure di natura sanitaria. Ahimè siamo di nuovo qui. Qualcosa poco è stato fatto, ma l'obiettivo è ancora lontanissimo. Abbiamo ancora di nuovo un altro problema con la fauna selvatica e soprattutto con i cinghiali, quello sanitario. Purtroppo già in provincia di Rieti abbiamo dei casi di peste suina africana. Questa malattia, questo virus colpisce gli ungulati, per cui anche i nostri allevamenti di maiali non colpisce l'uomo, possiamo stare tranquilli, ma sicuramente colpirà il turismo della nostra regione, perché nel momento in cui noi avremo delle zone rosse dove non possiamo più entrare, sia con gli animali domestici, ma anche noi stessi, perché possiamo dare più contagio. Voglio capire gli agriturismi, il turismo, l'alberghiero, cosa diranno a questo proposito. Quindi la situazione è grave e dobbiamo contenere questo fenomeno. Ecco, da parte delle regioni avete avuto qualche risposta. Abbiamo visto insomma che l'assessore Imprudente partecipa sempre alle vostre iniziative, anche questa mattina è qui. L'assessore Imprudente partecipa sempre, ha sempre partecipato, però vorremmo qualche forma più dura e più concreta nei confronti del contenimento dei cinghiali soprattutto.